allora dopo le lacrime quindi versate per la fine di Death Stranding fatta poco fa andiamo a vedere Xur this week dov'è quindi scusate il ritardo scusate il ritardo siamo su io afflizione del gigante solita strada vi ficcate dentro la caverna TTT fate due passi e vi trovate Xur qui di fronte a voi con la faccia strana che vende questa settimana la lente di Prometeo non c'era l'amante del rischio qualcuno mi ha detto l'amante del rischio lente di Prometeo arma un po' meh inferno prismatico spara un laser solare e genera un campo di calore che cresce di intensità mentre l'arma continua a sparare e in più c'è rifrazione fiammeggiante le uccisioni con quest'arma ripristinano una porzione delle munizioni utilizzate nel caricatore della riserva estendendo la durata del laser quindi si può sparare un po' più a lungo diciamo che i fucili laser a parte il divinity che c'ha il debuff che si applica non è che siano così super mega forti sono lontani i tempi in cui la lente di Prometeo si usava nelle prove dei 9 però è un'arma insomma la solita storia ragazzi se ti manca dalle collezioni va comprate e via maschera del silente volto raccapricciante fornisce energia dell'abilità quando subisci danni quando si è gravamente ferito ripristina interamente la salute dopo ogni uccisione nì nì nel senso che il perk è quello più utile cioè quando l'energia si ripristina interamente dopo ogni uccisione dovete essere proprio nella barretta rossa e quindi è molto rischiosa usarla e quindi a questo punto la maggior parte delle persone quando devono usare questo casco non lo usano ok quindi non lo so ha una valenza sì ma veramente molto minima soprattutto perché stiamo parlando del titano e stiamo parlando del pwe quindi come sempre in pwe se proprio dovete usare delle esotiche magari ce ne sono dei migliori del titan però schifo non fa una roba media una roba media rischio dell'ankara anche qui purtroppo siamo di fronte a un'esotica nerfata prima era molto molto forte adesso fornisce resistenza aggiuntiva ai danni durante bomba nova e le uccisioni con bomba nova forniscono energia della super prima se si riusciva ad usare la super su un buon gruppetto di nemici la bomba nova praticamente si caricava quasi istantaneamente adesso molto molto meno quindi diciamo che rientra nella categoria di tutte quelle esotiche che sono state nerfate tra cui le bighe di orfeo i frammenti di galanor l'ursa furiosa eccetera eccetera tutte quelle che recuperavano l'energia della super appunto e quindi non lo so lo stregone appunto anche in questa season c'ha tante esotiche che sono meglio di queste tra cui appunto il nezarek la rocca da mettere su le braccia volendo anche in una fazione quindi anche qui non siamo di fronte a un grandissimo pezzo abbiamo anche la spada dofide la spada spada dofide per il cacciatore che fornisce semplicemente due coltelli per carica easy peasy lemon squeezy le beccate due coltelli si può usare per fare alcune build con i coltellini del ramo centrale volendo perché li calcola lo stesso e a parte quello insomma niente di più niente di più quindi è un oxurro un po' così questa settimana non saprei neanche che cosa consigliare forse tra le tre la migliore è l'ankara a questo punto anche se in realtà appunto è un po' così fine la spada ecco qua lente di prometeo come sopra se non ce l'avete prendetela ma sicuramente non è l'arma da usare in questo meta e in questo momento nei pvp nei pv sur su io questa settimana buone comperere buone comperere buone comperere